Il Consiglio regionale dell'Emilia Romagna chiude per FICO. La denuncia arriva dal Movimento 5 Stelle. Il prossimo 15 novembre a Bologna inaugurerà il megaparco del Cibo FICO Italy World e oggi la conferenza dei capigruppo dell'Assemblea Legislativa ha deciso di modificare l'ordine del giorno che riguarda i lavori del 14 e 15 novembre in modo da finire prima del taglio del nastro di FICO. Fine dei lavori alle 13 anziché alle 18 come da prassi. Una decisione inaccettabile per le consigliere regionali Raffaella Sensoli e Silvia Piccinini. L'ennesimo segnale del totale asservimento del PD e di chi governa questa regione, gli interessi privati, in questo caso delle coppe di Farinetti, dicono. Sospendere i lavori di un'assemblea pubblica regolarmente eletta dai cittadini e pagata con soldi pubblici, annullando la seduta d'aula in favore di una passarella dei consiglieri a FICO, oltre che essere un atto semplicemente vergognoso, crea un precedente davvero inquietante, sottolinea Silvia Piccinini. Se i consiglieri del PD hanno talmente tanta voglia di andare a visitare gli spazi di FICO, possono tranquillamente farlo nel loro tempo libero, senza compromettere il normale funzionamento dell'aula, conclude la consigliera regionale Grillina.